vai come si vede la pianta bende in su in su dove ho il dito in su non in giù in su noi la vogliamo fare cascare in giù perché in su ci sono tutte le piante e potrebbe incastrarsi allora tecnica per far girare le piante attenzione a quello che faccio che poi lo rifarete allora oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.